Oh, è molto bello! Quando ti prendi la camera? Non lo so Questa è la cucina di Eriko L'avrete vista magari in qualche video Guardate che bel lampadario Questa è la tua casa Bergamo, vero? Certo da ormai cinque anni Si? Davvero? Oh, però guarda che puoi fare il tè Posso fare il tè? Come si fa? Dimmi dov'è Ah, questa è per fare l'acqua calda Ditti l'acqua qui Ok ragazzi Come fare il tè? Non hai fatto il video sulla colazione giapponese? Viviamo tisane Viviamo tisane perché siamo vecchi Esatto Si Oggi abbiamo bevuto due spritz E mezzo litro di vino E poi il... non era limoncello era? Meloncello Meloncello Ok, il melone Il limoncello fatto con il limone Ok Premete qui Ma dov'è a caso? A dormire mi sa, peccato Ma io sono venuta qui a vedere Eh vabbè ma a caso c'ha la tonsillite Tonsillite Si Vedete che è tutto pulito eh? Si Devo fare l'aspetto Una donna triste Almeno un gatto Qualcosa Non so Camera da letto Ma già la camera da letto un po' presto C'è anche Ok Kagami 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 in italiano che sembra una parolaccia Però in giapponese vuol dire... E' Kagami In giapponese Kagami In giapponese Kagami vuol dire specchio In italiano In giappone esiste un nome masuki e Kagakatsu Kagakatsu Io c'ho un amica che si chiama Sadakatsu Però Kagakatsu vince E' amico tuo? E' amico mio? E' amico tuo? E' un amico Kagakatsu Esiste un nome di Kagakatsu Kagakatsu Vabbè ragazzi Se volete conoscere un amico di Eriko Kagakatsu E' amico suo Questa è la lampada di Eriko Bello che bello? Tutto mio Tutto tuo Questo è il bagno di Eriko Vieni vieni va Seguiamo Eriko Oddio Attenzione Che cos'è te? Che cos'è pericoloso No Oddio Ragazzi è divertentissimo Perché quando parlo con Eriko Parliamo mezzo giapponese Mezzo italiano E poi ogni tanto Me ne esco con delle frasi in inglese Oh Che bella casa Eriko Eriko Cucu è bello per fare i video eh E' veramente bello Dai raccontami una storia E' storia di cosa? Non lo so Raccontami un episodio che ti è successo Ti ho già raccontato tutto Si è vero Sono tre ore che parliamo Una fine di una storia Cos'era? Si Come Si come Il giapponese che ti ha spezzato il cuore Eh? Mi ha raccontato la storia di quel giapponese che ti ha furato l'età Ah sì 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 E' vero E io gli ho raccontato la storia della giapponese che invece l'ha spezzato a me Oggi abbiamo parlato di nostri ex Ex Eh non lo so mi ricordano molto una canzone di una cantante italiana che si chiama Alexia La conosci Alexia? Vabbè Cucu? E dove è a te vuoi di noi? Cucu? 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 Secondo me da qua ci si va eh su Posso salire? Fammi vedere Fammi vedere Cucu? 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 Non rompere Non credo che si rompa Eh ma io ho paura Non penso che sia un lato Cucu? Ehm Cucu? Ehm Cucu? 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 Ma questo dice che è un lato o no? Non so Scendo prima che si rompe? Sì Ma dice che si rompe se metto la mano qui Si rompe Cucu? 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 Ehm Della canzone che forse potresti C'è la canzone nel cellulare? No No zutto zutto E devo cercare in fondo in fondo Non riesci a trovare? Hmm Mi tocca siccano Ok Ho aperto il mio canale un anno e qualche mese fa, mi sta andando molto bene e infatti ne sono contenta, però abbiamo parlato di argomenti interessanti che potrebbero essere per un video futuro, ma ultimamente. Non so, YouTube, cioè continuiamo perché ci piace, alla fine no? Sì 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 sì, però mi racconti un po' di questi quadri che hai in casa, perché li hai comprati? Perché hai scelto questo? Ho fatto io questo. L'hai fatto tu? Sì sì sì, sono bravissima a disegnare, vedete che colore bellissimo, questo è il mio autografo, c'è scritto Eriko Kawasaki. Vediamo i libri che legge Eriko. Stephen King. Ah Stephen King, io l'ho letto questo il miglio verde, è un bellissimo libro, lo conosci, c'è anche il film, non l'hai mai letto? A parte che di ultimo è un periodo che ogni mese sta uscendo un film nuovo di Stephen King, l'hai visto L'erba alta? No. Hannibal ho visto il film, Il Silenzio degli Innocenti è uno dei miei film preferiti, anche di mia mamma, è bellissimo. Anthony vuoi tornare in branco? Sì. Ah dai, segui, dai corri corri corri. Bisogna essere un po' silenziosi quando si va fuori. Ragazzi comunque se vi siete visti il video fino a qua vi ringrazio, siete davvero dei fan speciali, vi vogliamo bene, questo era un video così per farvi vedere 10 minuti di ericottero ubriaca, però... L'effetto dell'alcool è sparito. L'effetto dell'alcool è sparito? L'effetto dell'alcool è sparito? Sì, sì. In questi 10 minuti di video? Sì. Mannaggia. Vabbè ragazzi, quindi noi ci vediamo al prossimo video, vi auguriamo una buona... Buonanotte. Ciao. Ciao. Ma qua è bagnato, mannaggia. Ci sono, non è te. Madonna, ci sta muovendo. Buonanotte. Ciao. Bene. Buongiorno. Sì. Che poi è pomeriggio. Allora. Mi fai strada? Sì. Guardate che bella la maglia di ericottero. E' del Monster Dolls, che è un concerto che organizza Ericko tutti gli anni adesso. Sì. Allora adesso ci richiamo dalla casa di Ericko, che è qui, fino allo studio. Quindi sarà un lungo percorso. Sai dove è lo studio? Qua adesso, da subito. Sì, esatto. Buongiorno, benvenuti su un nuovo video a Katsu. Oggi, l'ospite speciale di oggi è... Barabam, barabam. Ericottero. Ericottero. Allora, cosa stai facendo, Ericottero? Ti vedo super felice e contento. Stai ballando. Stai ballando? Mi sto scartando in realtà. Ma che bel vestito, ma di chi è? Questo è il Monster Dolls. Non quello, quello sotto. Mi è andato. Mi è andato. Mi è andato. Questo è il Yawks. Serafini. 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 Questo è un vestito di Serafini. Qua abbiamo Stefano di Hyper Rio. Cosa pensi delle brioche che ti ha fatto Sebastiano questa mattina? Oh, molto buona. Grazie. No, perché dovete sapere che ogni settimana che cucino qualcosa di sbagliato, a caso ti manda sempre le foto dei scippai esteriore. Tipo, non lo so, brucio le castagne, foto di ricottero. Tutti qua. Quelli si sono uniti. Ho fatto teoricamente, la prima volta che ho fatto i biscotti, li ho fatti e li ho messi tutti sulla cartaforma. Si sono tutti uniti e è diventato un unico biscotto. Allora, adesso stiamo per iniziare ragazzi. Riusci a stare in piedi? O seduto? Forse in piedi. Ok. In piedi. In piedi. Si. Ok, si è pianta per non l'uguale. Si. Che coi ta? Non sei? Va te mo, ta te mo. Stai qua, stai qua. Ora non è il sega. Ehm... Questa canzone ho scritto il testo di questa canzone. Comunque possiamo iniziare quando vuoi, eh? Se siamo già pronti. Tu sei pronto? Sì sì sì. Musica? Adesso mettiamo la musica. Serve? No, non ce l'ho io. Ah, ce l'ho io, ce l'ho io. Adesso faccio partire la musica. Ragazzi, stiamo per sentire The New Single Ease. Puoi salutare? Ok, bye. 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 Ciao, ciao. Ciao.